Sarà lo psichiatra di fama internazionale Mario Lanfranconi di Lecco a scandagliare la mente di Michele Bordoni, il 27enne di Poggi Ridenti che in un sabato pomeriggio di follia ha seminato terrore in piazza Garibaldi a Sondrio investendo tre persone. Dopo l'opposizione di ieri dell'avvocato Francesco Romualdi che difende Bordoni alla richiesta di nomina di un consulente di parte della procura, oggi il giudice Carlo Camnasio ha accolto l'istanza del legale fissando per il 16 gennaio l'incidente probatorio nel quale il giudice nominerà il perito del tribunale già individuato nel dottor Lanfranconi. Psicoterapeuta e psichiatra forense Lanfranconi in passato tra i casi di cronaca più eclatanti si è occupato sempre su nomina del GIP della perizia psichiatrica su Sonia Caleffi, l'infermiera killer del Manzoni che nel 2004 fu arrestata e poi condannata per aver ucciso in corsia cinque pazienti ma anche del caso di Eldira Dobrusci, la mamma di origine albanese che nel 2014 ha ucciso accoltellate le sue tre figlie.